B.S. è un leader mondiale nella produzione di impianti e macchinari per la lavorazione del legno, del vetro, della pietra, dei materiali plastici e del metallo. B.S. è nata 50 anni fa come molte belle aziende, innanzitutto per il genio di un nostro fondatore, il Cavaliere Giancarlo Selci, che in un garage ha creato una realtà che da Pesolo poi dopo è cresciuta e oggi è un'eccellenza riconosciuta a livello mondiale. Quest'anno chiuderemo con un fatturato di oltre 700 milioni di euro, di cui l'85% viene fatto all'estero. Conta oltre 4.400 dipendenti dislocati in oltre 30 paesi, anche se i nostri clienti in realtà sono in più di 120 paesi, avendo B.S. nel tempo raccolto più di 66.000 referenze. I clienti di B.S. vanno dal piccolo mobiliere a grandi nomi esteri come Ikea o Odens. In Italia aziende come la Schiavolini, Lago, Colombini, Mondo Convenienza o Veneta Cucina. B.S. negli ultimi anni è cresciuta tantissimo perché ha quasi raddoppiato il fatturato, ha anche assunto tanto e ovviamente molti giovani. La cosa bellissima della nostra azienda è che l'età media è veramente molto bassa e questo, devo dire, ci dà una marcia in più. Oggi siamo un'azienda leader, leader come marchio, leader come tecnologia. Credo che abbiamo tutte le carte in regola per poter rimanere tali anche nei prossimi anni.